Beppe Maggi, il tuo collega Mezzanotti primo tempo ha fatto una mossa tattica, ha messo il numero 8 del Sansepolcro sul nostro Playmaker Croce e ne abbiamo risentito un po'. Tu però nel secondo tempo ti sei preso una bella rincita, hai giocato un po' a scalare e hai trovato sempre un uomo in più a centrocampo. È tutta qui la partita? Beh effettivamente ci ha sorpreso un pochino il modulo del Sansepolcro il primo tempo, siamo partiti bene, poi ci siamo smarriti strada facendo, ci siamo intestarditi passare per via centrali ma centralmente c'era un po' troppo traffico, abbiamo perso sicurezza e loro su qualche ripartenza ci hanno spaventato. Però è stata una partita molto bella, molto aperta, combattuta su tutti i palloni e poi la differenza è stata un pochino nel secondo tempo dove noi siamo andati più per via esterna e abbiamo lavorato meglio e lì è venuta fuori anche la qualità della mezzala. Che poi è quello che avete preparato in settimana, questo gioco a scalare, queste corsie, le sovrapposizioni sull'avvolgimento per la palla centrale, la sovrapposizione interna della mezzala che cerca il buco e il gol. Oddio, è un po' troppo complicato per me questo. Ci siamo? Scherzo però sì, avevamo provato in settimana perché pensavamo che giocassero col 3-5-2 e fondamentalmente anche il 3-5-2 ti dà densità centrale quindi devi provare ad abbassare i quinti con le sovrapposizioni. Il 4-3-1-2 fondamentalmente lo puoi aggirare con lo stesso metodo però ripeto ci siamo nervositi perché non siamo riusciti a fare quello che volevamo e sblaccare la partita. Quindi il primo tempo abbiamo concesso troppo dal mio punto di vista. Il secondo tempo invece si è stati molto bravi, loro sono ripartiti molto meno, abbiamo credo concesso l'unico tiro in porta sul gol. Ci sta? No, non ci sta assolutamente, deve finire 2-0 assolutamente. Noi non possiamo permetterci di rimettere in gioco una partita a due minuti dalla fine con Mischi e quant'altro. Però ecco la squadra nel secondo tempo ha dimostrato di non accettare lo 0-0, ha voluto provare a vincere la partita e credo che lo abbia anche meritato. Gavorrano però vince sempre. Beh noi non giochiamo contro il Gavorrano, noi giochiamo contro quelle che affrontiamo domenicalmente. Dobbiamo pensare a noi, se loro vincono bravi loro però ecco quello che mi piacerebbe è che è bravo il Gubbio, scendere in campo con la mentalità giusta, crescere nel momento giusto perché adesso anche a livello psicologico non è facile tenere sempre l'attenzione al massimo. Però il secondo tempo di oggi mi lascia ben sperare perché la squadra è uscita con la voglia di andarla a vincere questa partita. Hai fatto una telefonata a Massimiliano Allegri e gli hai chiesto come si fa? No, non ho il numero. Ma quello te lo do io. Lo chiamo tutti i giorni. Però credo che al di là del merito mio passa molto attraverso la mentalità e le qualità dei giocatori. Più bravo in campo però è stato il pubblico? Ma mi ha fatto particolarmente piacere perché fra primo e secondo tempo siamo usciti e i tifosi ci hanno applaudito. Eravamo in difficoltà, non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa e i giocatori si sono accorti perché fra primo e secondo tempo nello spogliatoio ci siamo guardati e abbiamo detto ci siamo, proviamoci perché veramente quella spinta e quell'aiutino è stato fondamentale. Quindi questa vittoria mi fa particolarmente piacere, ha anche l'esultanza sotto la curva. Finalmente gli abbiamo dato una gioia perché ultimamente, però ripeto, probabilmente se siamo riusciti a sbloccare la partita e portarla a casa è anche merito loro. Grazie.